È evidente che la riduzione del cuneo fiscale porta un vantaggio generale in relazione a quelli che sono i redditi e quindi alla disponibilità di redditi all'interno del Paese e questo va a beneficio poi di tutti, quindi direi che in questo senso siamo ovviamente favorevoli. Per i liberi professionisti ci sono altre misure, c'è una prossima delega fiscale che andrà a interessare tutti e credo che in questa direzione ci possano essere interventi anche a favore della libera professione. La flat tax ha comportato che tutte quelle strutture intermedie, quindi quelle che portano alla crescita degli studi professionali, si sono di nuovo disaggregate per il vantaggio fiscale perché come sappiamo la flat tax è applicabile solo ai singoli professionisti e non alle strutture aggregate dallo studio associato alle forme di aggregazione intermedie che potrebbero essere ad esempio le società tra professionisti. La nostra richiesta per andare al punto è quella di riuscire all'interno di questa riforma riuscire a trovare forme che si possano porre in posizione intermedia anche dal punto fiscale o riuscire a estendere la flat tax anche a piccole forme aggregate all'STP, agli studi associati, in modo che ci possano essere anche dei percorsi di crescita per i liberi professionisti, per i giovani liberi professionisti perché sappiamo bene che il giovane in una fase iniziale si inizia a lavorare, poi cerca di strutturarsi, anzi questa volontà di aggregare e di crescere il giovane ce l'ha molto di più, ma così con queste situazioni si trova bloccato da un gradone, perché fiscalmente la flat tax diventa veramente un gradone fra la posizione ordinaria e quella della flat tax e quindi la nostra richiesta è relativamente semplice, ma è penso fondamentale per il mondo della libera professione, per il mondo dei servizi in ambito tecnico, ma non solo perché la stessa richiesta viene fatta anche dalle altre professioni.